Musica Benvenuti ragazzi e bentornati in questo nuovo video Oggi siamo qui con un unboxing veramente cartellivo da tantissimo tempo Ovvero l'unboxing dell'iPad Pro 2020 Quindi bisogna non ci schiare perchè non sto proprio nella pelle Mamma mia Questo qua è il modello 256 giga silver wifi più cellular Quindi direi che posso procedere Nooo E' la prima volta che non riesco ad aprirlo con l'apertura facilità Ok Spettacolo E' strepitoso e leggerissimo sta perfettamente in mano Questo è il modello di 12,9 pollici di quarta generazione Ci ho fatto fare anche un inciglione Sperando che si veda Eh vai c'è pieno di dittate Allora Potete mettere qua Nella confezione troviamo anche Alimentatore USB-C da ben 22 watt C'è 20 watt E troviamo un cavo USB-C Semplicissimo Allora La confezione è quella che ho ormai ci abituato Molto semplice Molto basilare Ma con alla fine Quello che è pronto Ovvero il prodotto Che troviamo qui Tutto il suo massimo splendido E' bellissimo Sono stra felice di avere qui E direi che posso anche Unboxare questo pacco qua Da Amazon Che contiene Allora A parte roba non in venta Allora La iPhone contiene una cover per l'iPad Che compro provvisoriamente In attesa di acquistare Quella Magic Keyboard E poi una pellicola Che ho proprio in attesa di acquistare Questa è quella Della Linoshib Ehm Adesso non sto mettendo tutto E faccio vedere Solicente Quelli sulle cover La cover è molto semplice C'è la concazione per le camere frontali E basta E riempie completamente lo schermo Ehm Tutte le varie cose Ah tra l'altro Sono due pellicole Ok E' buono sapersi E poi E poi abbiamo la cover Che ho preso 10 euro Perché non volevo Spenderci soldi Volevo avere qualcosa Per proteggere l'iPad In attesa Solo di prendermi la Magic Keyboard Quindi Vado subito Quindi A inserire L'iPad Nel suo Alloggio Pura Chiusa Pulita Quanto semplice Un po' rovinata Però 10 euro Non potevo pretendere molto Ehm Posso E' fatta apposta Per essere Sistemata In modo da Permettermi di mantenere l'iPad In modo verticale O O Orizzontale Così Posso Usarlo In tutto I modi Non ho comprato altri accessori Per il semplice fatto Che mi hanno detto Che per il compleanno Mi hanno comprato La Pencil I miei amici Quindi Per via del comito Non possiamo uscire Però So che arriverà Almeno quello che mi hanno detto Niente Io direi che Per questo unboxing Velocissimo E' tutto Ci vediamo poi In un prossimo episodio Che tanto Adesso arriveranno Un sacco di video Molto importanti Dai Grazie a tutti della visione Ci vediamo In un prossimo video Bella